Mi chiamo Rami Elanan. Sono il padre di Smadar. Mi chiamo Bassam Aramin. Sono il padre di Abir. Sono un graphic designer di 67 anni, un israeliano, un ebreo di settima generazione. Io sono un palestinese, un musulmano, un arabo. Ho 48 anni. Sono vissuto in molti posti, in una grotta vicino a Ebron, in una prigione per sette anni. Attualmente vivo in una casa con giardino a Gerico, vicino al Mar Morto. Nell'ottobre del 1973 ero un giovane soldato della guerra in Sinai, una guerra orribile, lo sanno tutti. Il mio ruolo era portare dentro munizioni e portare fuori morti e feriti. Ho perso alcuni dei miei amici più cari, li ho portati via in barella. Dalla guerra uscì amareggiato, arrabbiato, deluso, con un solo progetto. Allontanarmi da qualsiasi forma di coinvolgimento, tenermi alla larga, da qualsiasi presa di posizione. Ero una specie di anarchico, ma non ero nemmeno un anarchico. Non nutrivo il minimo interesse politico. Non me ne importava niente. Di Cisgiordania, Gaza, Sinai, niente di niente. Ciò che volevo era una vita ordinaria e tranquilla. Da bambino io e i miei amici issavamo la bandiera palestinese nel cortile della scuola. Lo facevamo perché era la nostra bandiera e perché era vietato. E sapevamo che la sua sola vista avrebbe fatto impazzire i soldati israeliani. Li guardavamo arrivare e gli lanciavamo contro delle pietre. In cambio loro sparavano candelotti lacrimogeni, proiettili di gomma, proiettili veri. Poi tiravano giù la bandiera. Noi lanciavamo altre pietre e tiravamo di nuovo sulla bandiera. All'inizio tiravamo solo pietre e bottiglie vuote, ma un giorno, con i miei amici, trovammo delle granate abbandonate e decidemmo di lanciarle contro la jeep degli israeliani. Per fortuna non sapevamo usarle come si deve e così nessuno rimase ferito. Fummo presi, arrestati e all'età dei diciassette anni la porta della prigione mi si sbarrò davanti agli occhi. Una lunga storia, lunga sette anni. Lasciato l'esercito sposai inuriti e avemmo quattro figli, tra questi mia figlia Smadar. Il suo nome viene dalla Bibbia, dal Cantico dei Cantici, Grappolo della Vigna. Era una bambina vivace, gioiosa e bellissima. Una scolara eccellente, una nuotatrice, una danzatrice, suonava il pianoforte. La chiamavamo principessa. Un cliché, certo. Ma lei per me era esattamente quello, una principessa. È un sentimento che ogni padre conosce. Niente è mai un cliché mentre lo stai vivendo. Una sera, in prigione, vidi un documentario sull'Olocausto. All'epoca gioivo al pensiero del destino di sei milioni di ebrei. Continuate a morire. Avanti, vi prego, di più. Fatene fuori sette, otto, nove milioni. Sì, vi prego. Eh sì, quello era solo il mio nemico. Nient'altro. Non poteva provare dolore, non poteva provare sentimenti. E allora se è accaduto una volta. Fate che accada di nuovo. Ma quella sera, dopo qualche minuto, cominciai a sentire qualcosa su per la spina dorsale. Una specie di brivido. Cercai di convincermi che era solo un film, niente di reale. Nessun essere umano farebbe mai una cosa simile a un altro essere umano. È impossibile. Chi mai farebbe ad altri una cosa del genere? E invece più andava avanti, più la barbaria aumentava. Io non riuscivo proprio a capire. Se ne restavano lì, ammassati verso le camere a gas senza nemmeno reagire. Ma se sapevano di andare a morire, perché non gridavano? Non resistevano? Non lottavano? O non cercavano di fuggire? E fu a quel punto che compresi che l'olocausto era reale. Era successo per davvero. E allora cominciai a pensare che gran parte della mentalità degli israeliani doveva essere scaturita da quello. Così decisi di provare a capire chi fosse davvero quella gente, quanto avesse sofferto e perché nel 48 avesse scaricato la sua oppressione su di noi, rubando le nostre case, portando via la nostra terra, infliggendoci la nostra catastrofe. Noi, i palestinesi, eravamo diventati le vittime delle vittime. Il 4 settembre del 1997 tre attentatori suicidi palestinesi si fecero esplodere nel centro di Gerusalemme. Tre bombe, una dopo l'altra. Uccisero otto persone, loro stessi e altri cinque, incluse tre ragazzine. Una di loro era la nostra Smadar. Era giovedì pomeriggio. Era uscita a comprare dei libri per la scuola e più tardi sarebbe andata a iscriversi a un corso di danza jazz. Una piacevole giornata, tranquilla. Stava camminando per la strada insieme alle sue amiche, ascoltava musica. Io ero in macchina, diretto all'aeroporto. Seppi dell'attentato alla radio. Sulle prime, quando senti di un'esplosione, speri che stavolta il dito del fato non punti contro di te. Ogni israeliano lo sa bene. La furia di sentirne parlare ti abitui, ma questo non altera il balzo che provi in petto. aspetti e speri di non essere tu. Poi non senti più niente e il tuo cuore comincia a martellare. Fai delle telefonate, ne fai delle altre e chiedi, chiedi, continui a chiedere di tua figlia. Componi un numero, ne componi un altro, ma nessuno sa niente, nessuno l'ha vista. Poi senti che l'ultima volta che è stata vista era in centro e adesso quello che senti è il tuo cuore che ti picchia nelle orecchie. Tu e tua moglie vi precipitate in centro e tu pensi no, non può succedere così, no, 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 no. Molli la macchina e stai correndo per le strade, dentro e fuori i negozi, caffè, le gelaterie alla ricerca di tua figlia, della tua bambina, della tua principessa, ma è come svanita. Urli il suo nome, torni alla macchina, guidi come un pazzo di ospedale in ospedale, di stazione di polizia in stazione di polizia, ti sporgi sul bancone, li supplichi, non fai che ripetere il suo nome e a quel punto lo sai, lo sai davvero nel più profondo del cuore per come ti guardano le infermiere, per come scuotono il capo i poliziotti, per la loro esitazione, per i silenzi, tu lo sai, ma non lo vuoi ammettere. E vai avanti così per molte lunghe ore finché a tarda notte ti ritrovi nell'obitorio assieme a tua moglie. Il dito del fato punta dritto verso di te, dritto in mezzo ai tuoi occhi. Il personale vi accompagna all'interno, vi portano in una sala, senti lo scivolare del ripiano, i rulli di metallo. E ciò che vedi è una scena che non potrai dimenticare per il resto della tua vita. tua figlia su un ripiano d'acciaio e non sarai mai più lo stesso. Fui rilasciato nell'ottobre del 1992. Mi sposai subito dopo e nel 1994 nacque il nostro primo figlio. Arab. Adesso ero un padre, avevo il dovere di pensare alle cose in maniera diversa. Lessi molto, sempre di più su non violenza, impegno politico e pian piano mi resi conto che la violenza era proprio quello che i nostri oppositori volevano che noi praticassimo. Preferiscono la violenza perché con quella possono farci i conti. Eh sì, è la non violenza a essere difficile da gestire che sia praticata da israeliani o da palestinesi o da entrambi. Li confonde. Non fraintendetemi, eh? No, non avevo rinnegato quello in cui credevo. Il mio obiettivo era quello di sempre e che sempre sarà fino al giorno della sua realizzazione la fine dell'occupazione israeliana. stupidamente all'inizio pensavo che avrei potuto continuare fingendo che non fosse accaduto nulla. Ma non funzionava. Ormai non c'era più niente di normale. Non ero più la stessa persona. Poi dopo un po' cominci a farti delle domande. Sapete, noi non siamo animali, noi possiamo usare il cervello, usare la nostra immaginazione e ti chiedi com'è potuta succedere una cosa simile? Cosa potrebbe portare qualcuno a essere tanto arrabbiato, folle, spietato, disperato e così stupido da farsi esplodere accanto a una ragazzina di nemmeno 14 anni? Come fai a capire un simile istinto di laniare il tuo stesso corpo come può uno ragionare in quel modo? Che cosa lo ha spinto? Come ha fatto a diventare così? Chi gli ha insegnato una cosa del genere? Glielo ho forse insegnata io? Gliela ha insegnato il suo governo? O il mio governo? È stato nel 2005 soltanto nel 2005 che alcuni di noi hanno cominciato a incontrarsi segretamente con dei soldati israeliani. Io ero fra i primi quattro palestinesi. Voi non potete immaginare quel primo incontro. Per noi quelli erano dei criminali dei nemici degli assassini e per loro noi eravamo la stessa cosa. Ma in quel momento ci stavamo incontrando come nemici sì ma che adesso volevano parlare. Circa un anno dopo l'uccisione di Smadar incontrai un uomo si chiamava Isaac Frankenthal un ebreo religioso un ortodosso uno con la kippà sulla testa. Tutti noi tendiamo a incasellare le persone tendiamo a giudicare gli altri per come sono vestiti e io ero sicuro che quel tipo fosse un fascista uno di destra uno di quelli che mangiano arabi a colazione e lui mi invitò ad assistere ad un incontro di questi matti da legare e dissi va bene proviamo che cosa ho da perdere ho già perso così tanto ma quelli sono matti devono per forza essere matti salì in moto e andai a vedere rimasi fuori cinico distaccato mentre quella gente arrivava per l'incontro restai a osservarli il primo gruppo per me in quanto israeliano era composto da vere e proprie leggende viventi persone cui avevo sempre guardato con ammirazione avevo letto di loro sui giornali li avevo visti in televisione e continuavano ad arrivare erano tantissimi poi però vidi qualche cos'altro qualcosa di completamente nuovo per me per i miei occhi per il mio cuore per il mio cervello vidi passare dei palestinesi su un autobus sentite io lo sapevo che sarebbe successo ma nel vederli restai a bocca aperta arabi sul serio che vanno allo stesso incontro di quegli israeliani ma com'è possibile un palestinese con un cuore un respiro un pensiero e ricordo questa donna con indosso il tradizionale vestito nero palestinese proprio il genere di donna che mi sarei figurato come la madre di uno degli attentatori che si erano presi la mia bambina e la osservai scendere dall'autobus incamminarsi nella mia direzione poi vidi che aveva una foto della figlia stretta al petto il pensiero mi squassò come un terremoto quella donna aveva perduto la sua bambina certo potrà suonarvi ingenuo ma non lo era affatto il mio dolore e il suo dolore lo stesso dolore Rumi il poeta Sufi ha detto una cosa che io non dimenticherò mai ben oltre il giusto e lo sbagliato c'è un campo io ti aspetterò là avevamo torto e avevamo ragione e ci incontrammo appunto in un campo ci eravamo resi conto che volevamo ucciderci l'un l'altro per raggiungere lo stesso obiettivo la pace e la sicurezza ma pensate un po' alla follia roba da matti invece avevamo bisogno di conoscerci ed è ve lo assicuro un disastro scoprire l'umanità del tuo nemico la sua nobiltà perché a quel punto a quel punto non è più il tuo nemico non può proprio più esserlo magari la storia avrebbe potuto finire lì come vorrei che fosse così come vorrei poter uscire da qui adesso tornare a Gerico al mio giardino e non dovervi raccontare nient'altro fine della storia buonanotte spero che la mattina porti la pace il 16 gennaio del 2007 la mia bambina di 10 anni Abir quella mattina uscì da scuola in anticipo era un giorno tranquillo non succedeva un granché lei si trovava proprio accanto al cancello della scuola quando un membro della polizia di frontiera le sparò con un proiettile di gomma un proiettile di gomma di fabbricazione americana con un M16 di fabbricazione americana da una jeep di fabbricazione americana non c'erano tumulti né intifada in corso le spararono e basta dietro la testa era appena andata al negozio aveva appena comprato delle caramelle ci furono talmente tante bugie il comandante disse che loro non erano nemmeno nella zona che non c'era nessuna operazione in corso poi dichiararono che era stata colpita da una pietra palestinese sebbene avessero trovato un proiettile di gomma proprio accanto al suo corpo poi cercarono di insinuare che lei stava lanciando pietre ma la pura verità era una una bambina di dieci anni era stata colpita dietro la testa da una distanza di pochi metri da una guardia di frontiera di diciotto anni che esporto il fucile dalla jeep aveva sparato dritto su di lei non riprese mai più conoscenza l'ambulanza fu fatta tardare di ore perché dissero che c'era una rivolta in corso ben presto il mondo restò sconvolto per i dettagli di quanto era successo non ultimo che a birra avesse appena comprato delle caramelle al negozio certi dettagli sono strazianti proprio per la loro banalità a volte penso che quelle caramelle non aveva avuto nemmeno il tempo di mangiarle sì ecco che cosa penso al risveglio alle caramelle più costose del mondo e poi poi eccomi lì un uomo la cui figlia era stata uccisa da quelli con cui voleva fare la pace in arabo noi diciamo spesso che la pace sia con te lo diciamo continuamente beh la pace non era con noi non era nemmeno vicino a noi per quanto sembri strano in israele non sappiamo che cosa sia davvero l'occupazione sediamo nei caffè e ci divertiamo non dobbiamo farci conti non abbiamo la minima idea di che cosa significhi dover superare un checkpoint ogni giorno o vedere confiscata la terra della nostra famiglia abbiamo due ordini di leggi due ordini di strade due ordini di valori alla maggior parte degli israeliani questo sembra impossibile una bizzarra distorsione della realtà ma non è così è che noi semplicemente non lo sappiamo per noi la vita è bella il cappuccino è buono la spiaggia è libera l'aeroporto è lì a due passi non abbiamo alcun accesso all'effetto che fa vivere in Cisgiordania o a Gaza nessuno ne parla una volta io credevo che non avremmo mai superato il nostro conflitto che avremmo continuato a odiarci per sempre ma da nessuna parte è scritto che dobbiamo continuare a ucciderci l'un l'altro l'eroe fa del suo nemico un amico ed è questo il mio dovere non è altro che il mio dovere noi continuiamo ad andare avanti dobbiamo farlo io e Rami e i nostri figli e in questo siamo insieme quando hanno ucciso mia figlia hanno ucciso la mia paura io non ho paura potrei fare qualunque cosa adesso sì sì a volte come se stessimo tentando di svuotare il mare con un cucchiaio ma la pace è un fatto è solo questione di tempo guardate il Sudafrica l'Irlanda del nord la Germania la Francia il Giappone perfino l'Egitto chi avrebbe mai pensato che fosse possibile i palestinesi hanno forse ucciso sei milioni di israeliani o gli israeliani hanno forse ucciso sei milioni di palestinesi invece i tedeschi hanno ucciso sei milioni di ebrei e guardate adesso abbiamo un diplomatico israeliano a Berlino e un ambasciatore tedesco a Tel Aviv vedete niente è impossibile io non ho più tempo per l'odio noi dobbiamo imparare a utilizzare il nostro dolore investire sulla pace non sul sangue e questo che noi diciamo Rami è venuto in Germania con me alcuni anni fa ma è una storia lunga ho dovuto convincerlo a partire perché odiava i tedeschi non aveva mai pensato di riuscire a metterci piede poi però l'ha fatto e il luogo che ha visto era diverso da come se l'era immaginato qualcuno un israeliano una volta mi ha detto che sarebbe stato meglio se mi avessero fatto saltare in aria con mia figlia e ci ho pensato a lungo avrei dovuto saltare in aria e la risposta mi è giunta dopo un po' forte e chiara sì sì perché effettivamente mi avevano fatto saltare in aria era già successo noi non siamo autorizzati a parlare con gli israeliani non lo vogliono i palestinesi e non lo vogliono gli israeliani non abbiamo alcuna idea di come sia l'altro ecco dove sta la follia ma abbiamo bisogno di imparare a condividere questa terra altrimenti lo dovremmo condividere soltanto nelle nostre tombe noi sappiamo che non si può applaudire con una sola mano non si può alla fine credetemi noi riusciremo a produrre un suono noi dobbiamo farcela mi chiamo Rami Elanan sono il padre di Smadar tutto quello che posso dirvi è che da quel giorno in poi io ho dedicato il mio tempo la mia vita ad andare ovunque sia possibile a parlare con chiunque sia possibile con chi vuole ascoltare e con chi non vuole ascoltare e lo farò fino all'ultimo giorno della mia vita e non cambierà mai ma chi può dire dove finiscono le cose le cose vanno avanti è così questo mondo mi chiamo Bassam Armin sono il padre di Abir io sono un giardiniere amo l'acqua in Inghilterra ero l'unico ad amare il brutto tempo i custodi ridevano di me quando me ne restavo fuori lasciando che la pioggia mi cadesse sulla faccia sono tornato a casa in Palestina quello era tutto ciò che potevo fare stasera fermerò la macchina e me ne resterò un po' sotto le stelle avete mai visto Gerico di notte? di notte di notte Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per aver dato corpo e voce ad alcuni frammenti di Apeirogon, straordinario libro vincitore della diciottesima edizione del premio Terzani a cui questa sera rendiamo onore. Sono stati i protagonisti, Massimo e Alessandro, di una toccante lettura scenica che ha avuto luogo ieri in Chiesa di San Francesco e che ci impegniamo come vicino lontano a riproporvi, perché il messaggio di pace che questo libro porta possa contagiare quante più persone possibili. Benvenuti al premio letterario internazionale Tiziano Terzani 2022. Un grazie da parte di tutta la nostra associazione alla famiglia Terzani che ogni anno ci consegna con affettuosa fiducia la responsabilità di realizzare una serata dedicata al vincitore del premio Terzani. Ma voglio ricordarvi anche gli altri titoli finalisti di questa edizione opportunamente scelti dalla giuria. Tutti i libri che si fanno carico di fratture del nostro tempo, le osservano e ce le raccontano nello spirito di Tiziano Terzani. Fabio De Otto, L'altro mondo, edito da Bonpiani. Erika Fatland, La vita in alto, edita da Marsiglio. Gulbahar Aitiwaji, sopravvissuta a un gulab cinese, ad editore, la sua videotestimonianza sarà al festival domani. Ece Temelkuran, La fiducia e la dignità, edito da Bollati Boringhieri. Quando abbiamo iniziato a costruire questa serata, la guerra non era ancora scoppiata. E la guerra, come sapete, ha trattenuto in Ucraina Francesca Mannocchi, dispiaciutissima. Più tardi vi leggeremo un suo messaggio, ma forse è importante che sia così. Perché i suoi reportage sono una guida importante per tutti noi, per l'appropriatezza delle sue parole e del suo sguardo. Ed è dunque con particolare gratitudine che invito qui sul palco un componente della giuria del premio Terzani. Lo conoscete, è stato direttore del quotidiano locale, il messaggero veneto, e ora dirige la provincia pavese. Fa parte della giuria del premio, e siccome con Franca Rigoni ho il grandissimo privilegio di partecipare alle riunioni della giuria, posso anche dire che ne è una colonna portante. Andrea Filippi. Grazie Andrea. Grazie Paola, grazie. Accomodati. Grazie. E accogliamo ora il vincitore della diciottesima edizione del premio Terzani, Colm McCann. Irlandese, è nato a Dublino nel 1965, vive con la famiglia New York, dove insegna scrittura creativa a Lanter College. È riconosciuto a livello internazionale come uno dei massimi romanzieri degli ultimi decenni. Nel 2009 ha vinto il National Book Award, con questo bacio vado al mondo intero, che è stato tradotto in 35 lingue. La sua narrativa ha riscosso unanimi apprezzamenti per la sensibilità nel raccontare le complesse geografie del mondo globalizzato. Aperogon, edito in Italia da Feltrinelli, la bellissima traduzione, giusto ricordarlo, è di Marinella Magri e Feltrinelli sta pubblicando tutte le sue opere. La sua voce sarà tradotta per voi in italiano da Enrico Varesco, che sempre ci assiste nelle serate del premio Terzani, mentre Colin McCann ascolterà la voce di Daniela Bergallo. Vi ringraziamo per il prezioso aiuto. A te Andrea, grazie. Grazie Paola, grazie per le parole bellissime. Un ringraziamento, due cose, devo subito dirle che sono importanti. La prima è che è assolutamente splendido, fa bene al cuore vedere un teatro di queste dimensioni, così pieno di gente, per un appuntamento letterario, per incontrare un autore importante come Colin McCann a parlare di un tema che, come avete sentito, è un tema importantissimo e molto profondo. Vedere questa partecipazione rende onore a Udine, rende felici e rende merito al grande lavoro che fa il premio Terzani e soprattutto rende onore anche all'autore del libro che stasera premiamo. L'altra cosa che volevo dire è che non è molto semplice in questo momento cominciare una conversazione dopo quello che abbiamo sentito, dopo la lettura che è stata fatta, bellissima, di questi brani del libro che ha commosso sicuramente tutti e ha creato un pathos, secondo me, straordinario nella sala. E' molto complicato riuscire a uscire da questa situazione per poter parlare in maniera rilassata di tutti gli aspetti di un libro importante come è Apey. Però ci proviamo, ecco, ci proviamo e lo facciamo partendo da un aspetto, avete sentito com'è la storia, avete sentito di cosa parla, siete entrati nel mondo terribile e bellissimo anche al tempo stesso di questi due padri con le loro tragedie e la loro scoperta di questo dialogo, dell'importanza che questo dialogo può avere per tutti loro. Però il libro non è soltanto questo, è questo, è un racconto di una forza e di un'emozione incredibile, è un racconto con un messaggio che è importante, molto chiaro, poi ne parleremo, ma è anche, secondo me, un piccolo miracolo, anzi un grande miracolo di architettura letteraria. Io anche un po' per stemperare la tensione che in qualche modo questa lettura ci ha dato, vorrei proprio partire da questo aspetto del tuo libro, che secondo me è l'altro aspetto che giustifica il titolo folle che tu hai scelto, Apey Rogon. Io quando ho iniziato a leggere il libro non avevo grande idea di cosa mi dovessi aspettare. Ho trovato questa copertina molto bella, questo volo di uccelli, appunto un volo di stormo di uccelli. Un titolo che minimamente, che assolutamente non mi diceva niente, non conoscevo il termine, ma penso che poche persone al mondo lo conoscessero. E quando ho cominciato a leggerlo ho avuto una sensazione di spaesamento che immagino che la maggior parte dei tuoi lettori avrà avuto nel momento in cui la prendeva in mano. Periodi brevissimi, capitoli brevissimi, una mille un canto, che non è un numero casuale, come un'esplosione di schegge in tutte le direzioni. I due protagonisti non c'erano all'inizio del libro, la storia che avete sentito prima non c'era. C'erano mille e mille altre cose. Storia, paesaggi, personaggi antichi o attuali, riferimenti alla musica, riferimenti alla scienza. Io ho pensato, mi sono infilato in un labirinto. E penso, l'abbiamo pensato in tanti. Ma poi mi sono al tempo stesso sentito sfidato. Ho pensato, Colum McCann mi sta sfidando proseguire. E continuando con la lettura delle pagine sono arrivato immediatamente a capire che non ero dentro un labirinto, ero dentro un kaleidoscopio. Che tutti questi pezzi, questi frammenti di storie che si spezzano, che si riformano, che si espandono e poi si contraggono, si allontanano e si riavvicinano, in realtà seguivano tutti un ragionamento iperlogico. Ed ogni cosa tornava al suo posto. E quelli che sembravano tante tessere, tante schegge, tanti frammenti, in realtà erano un disegno preciso dove tutto era assolutamente coerente. E questa cosa qua mi ha assolutamente stupefatto. Quindi io ti faccio dei complimenti, secondo me, che è raro fare a uno scrittore perché hai fatto un miracolo di architettura per me. Tu ne hai parlato anche come una sinfonia, poi ci spiegherai anche cosa vuol dire. Però io voglio che tu inizi a parlarci della scelta del titolo, che secondo me ha una doppia funzione, sia rispetto all'architettura narrativa che rispetto poi al messaggio. Grazie mille. 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 Prima di tutto quando ho detto che avrei scritto un libro su Israele e la Palestina, ho detto, oh mamma mia, e poi quando gli ho detto il titolo si intitolerà Apeirogon, li erano proprio stupefatti. Quindi ho incontrato solo due persone che conoscevano la parola Apeirogon, però come sono arrivato a questo romanzo? Stavo viaggiando in Israele e Palestina con un gruppo che si chiama Narrative Four, dove ci incontriamo per raccontare storie e scrivere. Dovevo andare lì per due settimane. A un certo punto sono entrato in questa sala, ho visto due persone normalissime sedute ad un tavolo, bevendo caffè con davanti una tazza, si raccontavano le loro storie. E entro mezz'ora ho l'impressione che mi avessero spalancato la cassa toracica, raggiunto il mio cuore, io sono stato colpitissimo dalla loro storia, l'ho ritenuta una storia straordinaria. Io sono dell'Irlanda, di Dublino, vivo a New York, sono tornato a New York e mi sono detto, devo scrivere, di che cosa scrivere? Devo scrivere di Israele e Palestina. Io sono di ceto medio, sono normale, sono un uomo bianco, non centro nulla con quella zona. Però mi tornava questa memoria dell'Israele e della Palestina, pensavo a questi due uomini e mi veniva in mente questa parola Apeirogon, che mi continuava a tornare di quando avevo scritto tanti anni fa del processo di pace in Irlanda. E ho cominciato a pensare, potrei scrivere un libro che stravolge completamente le strutture, che stravolge la narrazione convenzionale, che va a creare una cosa che confonde in prima battuta i lettori e le persone, genera confusione, perché è una cosa molto importante e che dimentichiamo di parlare, è che va bene essere confusi, perché non essere confusi? Ovviamente in inglese tutti conoscono I love you, chiamo le tre parole più conosciute, I love you. Le altre tre parole che mi piacciono molto è I don't know, io non lo so. Quindi secondo me c'è una malattia della certezza in cui ci troviamo adesso e abbiamo paura di dire I don't know. Quindi sono andato in Israele e Palestina cercando proprio di riempire tutti gli I don't know, i non lo so del mondo. Poi mi sono reso conto che la storia era più grande di me, più grande di Rami e Bassan, più grande di Smadare e Abir, e che in realtà è una storia che appartiene a tutti. Quindi questa storia dentro la Peyrogon, che è un poligono con un infinito numero di lati, mi è sembrata la parola perfetta, perché tocca la forma di cui tocca e riverbera dalla parte opposta della forma. Io tante volte mi fermavo durante la lettura e mi facevo questo pensiero. Dicevo, Dio mio, vorrei essere in quella testa. Poi ci pensavo bene, dicevo anche no. No, io non voglio dire no. Perché lo sforzo che hai fatto nel creare questa sorta di sinfonia di capitoli, di racconti, eccetera, è straordinario. Le tue influenze musicali ti hanno aiutato tantissimo. Un'altra cosa che ho visto molto presente nel libro sono i riferimenti alle traiettorie. Il volo degli uccelli, il funambolo che cammina sulla corda, che torna poi dal tuo romanzo più famoso precedente. I rabbini che tendono il filo. Hai quest'idea della traiettoria importante dentro nei tuoi romanzi? Sì, mi piace molto in realtà quest'idea. È un po' il sogno di andare da qualche parte, un itinerario, una traiettoria. Il romanzo di per sé è semplice, è un viaggio, un uomo si sveglia a Gerusalemme, va in un monastero, a Bejala, incontra l'amico palestinese, si raccontano una storia e l'amico palestinese poi torna a casa e alla fine della sera innaffia il giardino. Questa è la traiettoria semplicissima del romanzo, ma all'interno di quella traiettoria si ottiene un po' un compendio dell'esperienza umana. E credo che questo sia importante, perché nella mia testa il lavoro dell'artista, del romanziero, è di essere piccolo, limitato, ma anche epico, di essere locale, ma anche universale. Quindi uno può scrivere un romanzo ambientato stasera in questo teatro, però potrebbe coprire l'interezza di tutte le esperienze umane. Quindi per me quest'idea di andare da vicino nei dettagli, però poi si rivela qualcosa di grande sulla natura umana, questo per me è l'essenza dello scrittore. Certo. La struttura dell'apairogon, dell'incredibile sfaccettatura, l'infinito dei lati di questo poligono, sono anche le infinite possibilità nelle vicende umane, nel dialogo tra le persone, nell'evolversi delle situazioni, ma sono anche le tante personalità che ci sono all'interno di noi stessi. Tu racconti, in un passaggio del libro, che Arami dice, dentro di me ci sono dieci israeliani che combattono. Mi piacerebbe che mi spiegassi questo, poi mi dici anche se dentro di te ci sono dieci fighting Irish, oppure no. Sempre dieci irlandesi che litigano, ma almeno venti ubriachi di irlandesi sono dentro di me, sempre. Comunque, la storia sugli stereotipi di solito sono veri, però non sono spiegati abbastanza bene nel dettaglio. L'idea è che ci sono tante diverse persone che convivono dentro di noi, probabilmente è vera, dobbiamo riconciliare queste varie personalità dentro di noi. Io vivo a New York, negli USA, ho due passaporti, il mio cuore è al 100% irlandese, devo dire che ho un'affinità anche con l'Italia, la famiglia di mia moglie è parzialmente di Roma, e ci sono tanti luoghi dentro di me. Io ogni tanto sento come se avessi tanti paesi dentro di me al contempo. James Joyce, il grande scrittore irlandese, diceva Sono mancato così tanto dall'Irlanda che sento sempre la voce dell'Irlanda in tutto. La mia identità è un po' così, la mia identità tornerà sempre in Irlanda. Io cerco sempre di raccontare una storia irlandese, anche se l'ambiento in Israele e in Palestina, al World Trade Center di New York, o se voglio scrivere sui Rom in Slovacchia. Tutto, tutto nel mio caso ridiventa una storia irlandese. Dal tuo primo incontro con Rami e Bassam, l'idea di scrivere un romanzo e scriverlo con questa forma ti è venuta subito. Poi il tuo lavoro, il lavoro tra i cinque anni di tempo, è stata una cosa molto lunga e importante. Mi spieghi un po' intanto com'è la nascita e poi com'è stato il rapporto con Rami e Bassam durante la scrittura del libro. Ti sei consultato con loro, li sentivi man mano che procedevi con la storia? Allora, li ho incontrati, gli ho detto voglio scrivere un libro su di voi e loro hanno detto va bene, ma io sono un romanziere, attenzione, invento delle cose, faccio narrativa, giungo e loro hanno detto va bene, va bene anche quello. Poi mi hanno detto una cosa molto profonda, mi hanno detto la cosa peggiore ci è già successa, peggio di così, non può accadere. Quindi se tu riuscirai a trasmettere anche una piccola parte del nostro messaggio avrai fatto abbastanza. Quindi poi mi hanno dato carta bianca e mi hanno detto fai quello che vuoi. Gli ho detto guardate che aggiungerò un po' perché un romanzo necessita di una struttura. Quindi ho letto un sacco di libri, probabilmente centinaia se non migliaia di libri e saggi. Poi ho visitato le zone, sono andato in giro con la moto di Rami, ho passato i checkpoints con Bassan, ho cenato con le loro famiglie, ci siamo fermati a cantare sotto le stelle di Gerico. Ho un sacco di tempo ad ascoltare, a raccogliere dati a ascoltare, stando lì seduto, che sia nella città vecchia di Gerusalemme, dappertutto andavo, tornavo, viaggiavo, andavo lì, parlavo, ascoltavo, raccoglievo materiale. E poi nel libro alcune cose le ho aggiunte, però la base è tutta vera. Se parlate con Rami e Bassan, magari fossero venuti qui, se chiedete a loro, loro vi diranno che lo spirito del romanzo è completamente vero, basato tutto sulla verità. Comunque Rami è stato arrabbiato con me a un certo punto perché avevo cambiato la marca di motocicletta che lui guidava. Vero, lui adesso ha 70 anni, guida una motocicletta, va molto veloce, anch'io avevo guidato in passato, però lui ha una col cambio automatico, io l'ho trasformata in una moto con le marce, perché? Perché volevo che il lettore sentisse la frizione, sentisse il motore che scattava, che aumentava, proprio il motore che rugiva. Quindi il lavoro dello scrittore è questo, metterti nel contesto e adattare un pochino la verità per renderla ancora più veritiera. Quindi uno degli esempi di questo è che quando Bassan, che passa sette anni in carcere e fa anche lo sciopero della fame durante la sua detenzione, quando lui interrompe lo sciopero della fame nel romanzo, la interrompe con una mentina, mangiando una mentina, una caramella alla menta. Io volevo che il gusto di questa menta fosse nella testa del lettore, immaginate sciopero della fame per un sacco di giorni e poi volevo che tutti potessero sentire questo sapore della menta che interrompe uno sciopero della fame. Devo dire che in effetti è un'immagine che è quasi sensoriale nel leggere il libro, si capisce perfettamente quello che hai cercato di dire e la forza con cui hai cercato di raccontarla. D'altronde la forza della letteratura è strepitosa. Abbiamo sentito dei brani veramente toccanti, letti poco fa, anche perché Colum non ci risparmia nel suo libro le descrizioni delle morti delle due ragazzine, degli effetti delle bombe dei kamikaze sulla ragazzina israeliana e sui danni del proiettile di gomma, che in realtà sono proiettili che uccidono, sul cranio di quest'altra ragazzina palestinese. Quindi diciamo ci sono dei momenti di grande anche violenza e di grande emozione. Però io devo dire che tra le cose che più mi hanno colpito, e questa è la forza della letteratura, del tuo libro, e che mi ha dato letteralmente l'idea della violenza del potere, è stato leggere, la scheggia, il canto, il breve capitolo, in cui tu descrivi l'ultimo pranzo di Mitterrand, di François Mitterrand. Io ho trovato una cosa di un impatto clamoroso, l'ho trovata di una forza incredibile, che non stiamo parlando di niente di drammatico. Eppure la letteratura, in questo caso qua, riesce ad andare oltre. Come ti è venuto in mente di inserire quel frammento che secondo me è uno dei più forti di tutto il libro? Bene, benvenuto nella mia testa pazza. Speravo di evitarlo, ma... Allora, ancora prima di scrivere questo libro non sapevo nulla di uccelli, di volatili. Poi sono andato in Palestina, sono uscito in questa zona dove inanellano gli anelli. Cioè, gli davano un passaporto, ma gli uccelli non hanno nazionalità, gli uccelli volano in tutte le direzioni, non si fermano in un paese, volano. Però ho pensato, questa è una metafora interessante, e ho cominciato a imparare molto su questo inanellamento degli uccelli, gli uccelli che sono creature bellissime, che percorrono queste autostrade del cielo, delle rotte migratorie. Quindi, io ho immaginato di essere io un uccello, arrivo dall'Irlanda, dalla Svezia, dall'Italia, sorvolo questa zona dell'Israele e della Palestina, poi vado in Sudafrica, vado in Algeria, in tutte le direzioni. Però tutti gli uccelli passano da Gerusalemme, prima o poi, e ho immaginato a tante storie di uccelli che conosco, e mi è venuta in mente la storia di François Mitterane, dell'ultima cena, l'ultima cena che lui ha voluto fare con questi uccelli, che si chiamano ortolani, dove lui divorava questi uccellini, canterini. Avevo letto che aveva avuto quest'ultimo desiderio prima. Lui faceva scricchiolare gli ossicini degli uccelli, mantivorandoli, una musicalità che mi ha ricordato Gerusalemme. Comunque, quello che dicevi prima, io mi sono sentito un po' come un direttore d'orchestra. Quindi, le cose che mi arrivavano da tutte le direzioni, da alcuni strumenti, una parte dalle ricerche, una parte da Rami e Bassan. Quindi, ecco, poi, come un direttore d'orchestra, via il piano, via il contrabbasso, che parta il violoncello. Quindi, tutti gli strumenti che si mettono insieme e poi improvvisamente si spalanca la porta del fondo del teatro ed entra qualcuno che porta uno strumento che nessuno ha mai visto prima e che entra e comincia a suonare una musica che nessuno conosce. Però bisogna incorporare tutto, anche nei vari suoni. Cioè, questa è la mia testa. Mille fonti, mille suoni diversi. Poi, delle volte, mi risveglio al mattino e penso non mi ricordo più come mi era venuta in mente quella cosa di ieri sera. Però entra sempre in queste infinite forme della Peyrogon. Io adoro Rami e Bassan. Loro sono amici. Sono anche amici miei, ovviamente. Non ho mai incontrato le loro figlie, ahimè. Però ho l'impressione di, alle volte, sentirmele sulle spalle, che mi sussurrano cose negli orecchi. Quindi, gli scrittori spesso raccontano di esperienze mistiche che possono sembrare anche un po' sciocche. Ma con questo libro mi ha colpito qualcosa, veramente con una forza brutale. Mi è arrivata una ventata dal nulla che mi ha proprio colpito e stordito. Guarda, io, oltre alla metafora della sinfonia, un'altra cosa che mi è venuta in mente, fa un po' ridere, ma purtroppo mi è venuta in mente, certe ricette di grandi chef che prendono un piatto classico dell'alta cucina e poi lo destrutturano. Togliendo, rimettendo, spostando gli ingredienti creano un altro piatto che ha tutte le caratteristiche del piatto originale, ma è completamente diverso e ugualmente strepitoso. Tu hai fatto un lavoro di destrutturazione molto simile a questo di questi grandi chef. Il risultato comunque è stellato. Sì, grazie. Credo che il lavoro dell'artista, che sia un pittore, uno chef, un giornalista, un creatore, diciamo, sia sempre di destrutturare il pubblico, i lettori. Uno deve toglierli dalla loro comfort zone, togliergli gli equilibri che danno sicurezza, metterli in difficoltà. Mi piace presentare le cose in maniera diversa. Quando leggo un bel libro è sempre un po' difficile comprendere esattamente cosa c'è dietro a quel libro. E lo chef fa la stessa cosa, rimescola gli ingredienti e genera un nuovo aroma, genera nuovi gusti, è sempre una creazione nuova. Ho scritto di Israele e Palestina, non volevo scrivere come già tanti prima di me avevano scritto di questo argomento. Io per fortuna ho trovato questo formato nuovo, vi posso anche dire come è accaduto. Dopo due anni scrivendo il libro non avevo ancora capito chi fosse il narratore. Mi ha molto colpito che Rami e Bassan stavano raccontando le storie delle loro figlie, Smadar e Abir, per mantenerle vive. E mi è venuto in mente Sherazad, ah ecco le mille e una canta. Molti pensano che uno scrittore, un romanziere sia tanto intelligente, sapeva tutto dall'inizio. Non è così, non è proprio così. Credetemi, gli scrittori non sono così tanto intelligenti alle volte, però tante volte hanno un intuito, si comportano come i musicisti, vanno un po' a naso, sniffano le cose. E quando la musica comincia a funzionare, così è anche un po' per lo scrittore che ha il bravo. Ci parli un po' delle reazioni al tuo libro da parte israeliana e da parte palestinese? Io da parte israeliana so abbastanza poco. Da parte palestinese ho letto anche delle critiche abbastanza negative rispetto ad alcuni aspetti del libro, e poi magari ne parliamo un attimo. Tu che percezione hai avuto di come il lettore, come l'opinione pubblica in Israele e in Palestina ha accolto il tuo libro? E la tesi di fondo del tuo libro, che è quella dell'empatia necessaria e del non finirà finché non ci parliamo. Io credo che il libro sia stato ricevuto molto bene e accolto bene in tutto il mondo. Qua e là mi hanno attaccato alcuni, anche le due estremità, però la stragrande maggioranza delle persone, di lettori, di opinione pubblica, hanno colto il senso e lo spirito del libro e di Rami e Bassam. Hanno capito che loro sono dalla parte giusta della storia, questi due uomini. Quelli che mi hanno invece attaccato stavano un po' alle estremità, diciamo. Quindi alcuni degli attacchi che mi sono stati rivolti sono arrivati da persone che non avevano nemmeno letto il libro. E alcuni, pur non avendo letto, hanno attaccato pesantemente. Succede, si sa. Parlano quelli che non dovrebbero. Comunque mi fa piacere la critica, mi fa piacere che ci sia dibattito, mi fa piacere parlare che l'opinione ne parli. Mi piace molto parlare di ottimismo e di pessimismo. Anche Gramsci, l'italiano Antonio Gramsci a questo proposito di ottimismo e pessimismo, dice una cosa molto interessante. Dice che un pessimista dell'intelletto è un ottimista della volontà. Praticamente il mondo è scuro, il mondo è sinistro, questo è un fatto, questa è la realtà. Se si vuole arrivare qui, benissimo, mi sta benissimo. Però poi arriva l'ottimista che dice ma no, non basta, non è solo così. E credo che il vero ottimista deve prima di tutto essere un pessimista. E forse potremo creare un mondo proprio come l'ottimista, come il miglior ottimista. Però credo anche che dovremmo sempre saper accettare le critiche e poi sapercene discostare, incassare le critiche e basta, avanti da lì, creare qualcosa di buono. Non è il caso di essere cinici. Il cinismo non ci porta da nessuna parte, spesso è solo sentimentalismo. Certo. Una critica in particolare mi ha colpito, mi pare di averla letta in un articolo di Al Jazeera, e veniva da parte palestinese, da una parte ovviamente radicale palestinese. La tesi di fondo, poi è interessante perché ci richiama molto l'attualità di quello che sta accadendo oggi in Ucraina e di come noi raccontiamo questo conflitto e come lo stiamo vivendo. E la tesi di fondo di questa critica era che non si potevano equiparare le due tragedie. Cioè la tragedia di Raimi e la tragedia di Bassam non erano minimamente equiparabili. C'era un torto, c'era una ragione, c'era una giusta reazione al torto e quindi l'operazione di fare parlare i due in qualche modo era una mancanza di presa di posizione, era un modo per essere terzi rispetto a un problema. Questa cosa qua mi ha molto colpito, anche perché la vedo molto nel racconto che i media occidentali, non solo, spesso e volentieri, fanno del conflitto in Ucraina. Dove è chiaro che ci sono i torti e le ragioni, come tra Israele e la Palestina c'è un occupante e un occupato, in Ucraina c'è un aggressore e un aggredito. E credo che questo non lo possa discutere assolutamente nessuno. Ma c'è una narrazione in base alla quale chi in qualche modo si fa portatore di dialogo, di chi invoca il parliamoci, altrimenti non andremo da nessuna parte, viene accusato di essere terzo, di essere neutrale e quindi di non sapere valutare il torto e la ragione. La stessa articolo di Al Jazeera parlava infatti della tesi che il negoziato, il dialogo è utile soltanto al potente. è un argomentazione molto interessante, è un argomentazione che mi piace, con cui mi identifico, in molti modi è anche vero, però devo cercare di incanalare Rami e Bassan per darvi la risposta, perché di interpretarli, perché non c'è nulla di equilibrato, non ha senso dire c'è un occupante e un occupato, però parliamo invece anziché di cifre, parliamo del territorio del cuore umano. C'è un modo in cui possiamo parlare finalmente del territorio del cuore, lasciamo perdere le cifre, i numeri, i dati, dimentichiamo la politica e l'equilibrio. Quello che Bassan e Rami ci dicono non serve che ci amiamo, non ci dobbiamo amare, non ci dobbiamo nemmeno piacere, però dobbiamo capirci, comprenderci, dobbiamo assolutamente comprenderci, perché se non ci comprendiamo qui finché siamo sulla terra finirà che ci dovremo capire quando saremo sotto terra e sarà tardi. Quindi, attenzione, dobbiamo tentare, fare ogni tentativo per comprendere le storie degli altri, abitare queste storie, farle nostre. Bassan parlava del fatto che era diventato vittima delle vittime. Quello che lui dice è fondamentale, però lui comunica ad un livello straordinario sulla necessità di non vivere per le cifre, per i fatti, per le evidenze, parlare del 48 della federazione di uno stato, di due stati, di una confederazione. Lui vuole parlare di sua figlia, di quello che è successo a questa ragazzina, del suo cuore e di quello che è successo a lui. E se ci comprendiamo su questo livello del cuore, forse potremo cominciare a dimenticare cifre, dati e date e ristrutturare un futuro più positivo. Però comunque, tornando alle critiche del giornalista, era un'argomentazione forte, competente, però non era un'argomentazione umana, era una cosa teorica, astratta, campata per aria. Quindi quello che invece deve capitare a noi, affinché le cose cambino, è di entrare nelle storie delle persone, comprendere le persone e le storie prima di restare incarcerati nelle cifre e nei fatti e nei dati, che possono essere spesso manipolati e fraintesi. Nella narrazione sui nostri media del conflitto in Ucraina non sentiamo mai voci come quelle di Rami o quelle di Barsan. Perché non le cerchiamo? Io ho un po' anche questa impressione qua. Lo pensi anche tu? Io spero che questo cambi, sinceramente spero che questo cambi. Ho un'impressione, mi piace la teoria scientifica dell'emergenza, dove come uno stormo di uccelli diventiamo, man mano che diventiamo più intelligenti funzioniamo bene insieme, lo fanno gli uccelli, lo fanno le appi moltissimo. A livello umano, quanto più ci impegniamo nelle storie per capire le storie delle persone, quanto più riusciremo a uscire da storie assai complicate. Quindi ho un po', ho un grande amore per alcune persone di cui voglio parlare. Prima di tutto gli insegnanti, gli insegnanti sono i miei eroi, ma anche quei giornalisti, quei reporter che stanno in zona di guerra e che corrono grossi rischi. Sappiamo che qualche giorno fa è stata uccisa una reporter palestinese, stava lì facendo il suo lavoro raccontando le storie al mondo. Le storie vanno raccontate, qualcuno le deve dire, però dobbiamo imparare ad ascoltarle bene. E in molti modi credo che questo deve cominciare nelle nostre scuole, nelle nostre classi scolastiche. io sono membro di un'organizzazione che insegna alle persone a raccontare storie, a prescindere che siano americani, italiani, irlandesi, ucraini, eccetera. Se si mettono nei panni dell'altro credo che ci sia questo movimento emergente che comincia a descrivere le cose in modo nuovo, il movimento pacifista, la pace. Pensiamo a Greta Thunberg, il più grande esempio di questo. tredicenne, un giorno esce da scuola e quattro settimane dopo tutti i suoi compagni escono dalla scuola e quattro mesi dopo tutti escono da scuola e cominciano a marciare, a protestare. Un anno dopo questo ha messo in piedi un movimento gigantesco per la sensibilizzazione sul cambiamento climatico. Questo potere che parte dai giovani, anche giovanissimi, comprendere le storie, venirsi incontro, è una cosa che va sfruttata di più e che porterà... lo faremo, lo faremo perché il mondo ne ha bisogno. Credo che sia il momento giusto per farlo di più. Quindi tu che hai una certa esperienza di muri, perché un po' di muri li hai vissuti, tu sei irlandese, un po' di muri li hai raccontati, i muri del Medio Oriente, i muri che respingono e i migranti che cercano di andare negli Stati Uniti? Non hai questo timore che l'Europa stia iniziando a costruire nuovi muri dove magari già prima ne esistevano ma ora non ce ne erano più? Io di questo sono terrorizzato. C'è ancora qualche muro in Irlanda del Nord e ho paura che ne costruiscano altri sempre di più. E qui entrano le storie come quelle di Rami e Bassam. Non so se conoscete Leonard Cohen, il cantante canadese, lui dice c'è una crepa in tutto, una piccola spaccatura ed è lì che entra la luce, entra il cambiamento. Loro parlano di quest'idea di poter, contrastare il potere o lo strapotere con queste crepe che poi spaccano, che fanno cambiare il mondo. I muri prima o poi vengono giù a forza di crepe ma ci servono persone coraggiose. E qui torniamo a questa malattia della certezza di cui parlavo prima. Tutti che si sentono sicuri, tutti chiusi in casa, tende chiuse, porte chiuse con un GPS in testa. Non è possibile. Dobbiamo buttare giù i muri, buttare giù le pareti e sforzarci di andare ad ascoltare le storie degli altri. Il mondo è questo, il mondo non è la storia di noi stessi, il mondo è la storia degli altri. Ci dobbiamo sforzare. Ti faccio un'ultima domanda prima di passare al momento della premiazione. Del libro si farà un film, ho sentito, mi pare che i diritti li abbia presi Spielberg, giusto? Io mi chiedo come si possa pensare di infilare in un film qualcosa di così incredibile e variegato come il tuo libro. Tu ti sei fatto una mezza idea. sì, una mezza idea ce l'ho. C'entrerà anche Steven Spielberg, altri saranno coinvolti. Comunque la cosa interessante è che Rami e Bassam, ora quando si trovano ridono, dicono chi farà la mia parte? Chi farà? Chi reciterà la tua parte? E c'è un attore che si chiama Riz Ahmed che assomiglia moltissimo a Bassam e che credo che sarà straordinario nel ruolo di Bassam. Rami vuole George Clooney o nessuno? Lui ha detto solo George Clooney può interpretarlo e non vuole nessun altro. Però c'è una cosa, anche un'altra cosa molto importante. Le storie possono assumere infinite forme, ingrandirsi, cambiarsi, assumere questa forma ad Apei Rogon. Ora, un film di questo tipo che si vuole fare sul mio libro, raccontando la storia poi di questi due uomini, di queste due ragazzine sfortunate, però per includere, incorporare un po' tutto un compendio del mondo, potrebbe servire secondo me, è un film difficile ma potrebbe riuscire nell'intento e diventare un gran bel film sarà difficile da fare. Un po' fa parte della filosofia Terzani se ci pensate e se io comprendo bene ciò che ha fatto Terzani nel mondo e come lui ha descritto il mondo, come ne ha parlato. Quindi per dire che anche ciò che sembra impossibile, alla fine il possibile fa parte anche dell'impossibile. Questo mi piace molto perché, contrariamente a tutte le evidenze disponibili o contro tutte, bisogna andare avanti e crederci. Ok, ho detto che era l'ultima domanda ma scherzavo, ce n'è un'altra. Il tuo prossimo progetto, il tuo prossimo viaggio. Io a Mantua ti ho sentito parlare, nelle feste di letteratura, del reporter americano ucciso in Sirius, James Foley, e di un tuo progetto. È quello su cui stai lavorando adesso? È quello il viaggio che pensi di intraprendere o hai in mente qualcos'altro? Ho in mente un paio di cose. Ho avuto un'esperienza incredibile comunque. Uno degli uomini che ha ucciso James Foley, catturato dagli americani e che è stato processato negli USA recentemente. Bene, un paio di mesi fa io ho potuto accedere ad una struttura penitenziaria americana. Con la mamma di James Foley ci siamo seduti e per due giornate abbiamo potuto parlare con l'assassino di suo figlio. È stato uno dei momenti più intensi e profondi che io abbia mai vissuto. Non si trattava di perdono assolutamente e non si è trattato neanche di guardarsi a vicenda con rabbia e collera, piuttosto di comprendersi, di capire che la cosa è più complicata di quanto sembra, di venirsi un po' incontro. E l'altra cosa è che quanto più caotico diventa il mondo, quanto più interessante diventa, se ci pensate. Quindi torniamo per la terza volta a questa malattia della certezza. Non siate certi proprio di nulla, ve lo dico, mai avere certezze, perché quando scompaginiamo, quando strappiamo, quando complichiamo, è proprio lì che le cose si fanno molto più interessanti. Bene, adesso davvero abbiamo finito. Grazie mille, grazie a Colum Meccani. È il momento della premiazione e per la prima volta, con il nostro grande dolore, Angela Terzani non può essere qui. È stata bloccata a Firenze da un tampone di uscita ancora positivo, il vuoto è grande, abbiamo pensato di colmarlo con un collegamento telefonico. Angela? Buonasera Angela. Buonasera. Buonasera a tutti voi che siete al teatro di Giovanni di Udile. Come vi invidio. Do il benvenuto a Colum Meccani, il nostro premiato. La buonasera alla nostro presidente Paola Colombo e a Franca Rigoni, che le è sempre accanto. Al meraviglioso team di Vicino Lontano, che pur con le sempre più grandi difficoltà del momento, è riuscito a rimettere in piedi il festival. Il diciattettesimo festival in memoria di Tiziano. E grazie infine ad Andrea Filippi, lo scopritore di Meccani, che oggi sostituisce la giuria e me stessa. Sono felicissima che siete tutti di nuovo riuniti, che siamo tutti per ritornare alla normalità delle nostre vite e dei nostri appuntamenti annuali. Ormai sono diventati un ritmo al cui io faccio difficoltà a rinunciare come fosse il Natale. Però, quanto a me, non so dirvi quanto sono dispiaciuta di non essere a Udile con voi. Come lo sono fuori con Saskia, Gea, i bambini terzani, che volevano tanto salire sul podio, oggi, ma colpiti nel giro di una settimana e pur vivendo gli uni lontani dagli altri dal vecchio e ormai meno severo Covid. Siamo felici però di avere qui il nostro premiato Colin McCann e grazie, che grazie al suo Apeirogon, si possa anche quest'anno, come piaceva a Tiziano, premiare un libro strettamente legato all'attualità. L'attualità dei nostri giorni. È la guerra, purtroppo. L'odio, la vendetta. Ma questo libro ci incoraggia ad esplorare le soluzioni pacifiche di dialogo e di reciproco ascolto. Di questo un grazie particolare a McCann. E ora lasciate che vi lega la motivazione della giuria. In un'esplosione di frammenti narrativi, Colin McCann mette in scena i brandelli di un conflitto apparentemente senza soluzione. Sono mille e uno ai frammenti, come le mille e una notte, dice Erazzade. E infiniti sono i lati del puligono chiamato Apeirogon, come i punti di vista da cui l'israeliano Rami e il palestinese Bassam cercano di comprendere una realtà troppo complessa per essere osservata e giudicata da un unico lato. Lo strazio indicibile, il lutto cui nessuna lingua ha saputo dare un nome per la perdita delle proprie bambine, uccise ciascuna dalla guerra dell'altro, squarcia le loro vite e scuote in profondità le nostre coscienze. Ma sorprendentemente li trasforma in uomini di pace, complici di una nuova battaglia da combattere insieme, imbracciando come unica arma il comune dolore di padri, contro la tentazione della vendetta e la trappola dell'odio, nel segno della pietà e della compassione. Così, mentre l'orrore della guerra bussa di nuovo alle porte d'Europa, Colum e Canci regalano una speranza, mostrandoci che sotto le logiche della politica e della geopolitica si muovono persone, e sono tante, che al dolore della perdita, all'umiliazione della sconfitta, hanno deciso di contrapporre dal basso una coraggiosa, instancabile ricerca del dialogo. Alle loro voci Colum e Canci unisce la sua, indicandoci la necessità di una nuova consapevolezza. In un mondo dominato dal caos, abbiamo il dovere di abbracciare la confusione di te, ma dobbiamo farlo insieme, e dobbiamo farlo subito, imparando a condividere quest'unica terra e viverci in pace. Per la raffinata qualità letteraria di questo libro, dalla struttura originale, di irresistibile potenza evocativa, per l'appello urgente che contiene, la giuria conferisce il premio letterario internazionale Tiziano Delzani 2022 a Colum-Mecca. Grazie a tutti, grazie a tutti. A consegnare il premio, non essendoci Angela, credo sia giusto, non solo per l'ansia che abbiamo condiviso in queste giornate per costruire questa serata con tutti i contrattempi che ci sono stati, soprattutto per il lavoro che in questi 18 anni ha svolto per il festival, chiamo sul palco Franca Rigoni. È uno dei nostri straordinari volontari, eccoci. Grazie. 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 Il vincitore Andrea Filippi e Andrea Filippi abbandonano il palco, grazie Franca. Prima di passare alla seconda parte della serata, permettetemi di leggervi, la faremo avere in inglese al vincitore, il messaggio che ci ha lasciato Francesca Mannocchi. È un ramarico, intanto i nostri tecnici prepareranno il palco per la seconda parte della serata. È un ramarico profondo per me non essere con voi stasera, non dialogare con Colin McCann, autore di uno dei libri che più mi hanno ricordato negli ultimi anni a cosa serve la vera letteratura, a seminare il dubbio, a spostarci dalle posizioni in cui ci sentivamo comodi, perché la letteratura è essenzialmente questo, lo spazio dell'interrogativo, ben più che delle certezze. Sono in Ucraina, un conflitto antico e modernissimo che sta polarizzando le posizioni dei grandi e dividendo l'opinione pubblica in blocchi di ideologie. Delle guerre che ho raccontato, un'altra soltanto ha queste caratteristiche, sebbene sia naturalmente diverso il contesto, il conflitto israelo-palestinese. Ecco perché ho mirato dalle prime pagine il coraggio di uno scrittore come Colin McCann, che ha voluto cimentarsi con un tema così tanto ideologizzato. Perché la letteratura deve fare questo, spingersi al bordo e provare a superarlo. Ecco perché penso che questo libro sia politico nell'accezione più nobile di questa parola, perché sfida l'autore, il lettore e la lingua. Gli eventi degli ultimi giorni a Genina, a Gerusalemme, mi hanno fatto lungo ripensare a Rami e Bassam. Ho pensato alle loro paure, al loro coraggio, anche al coraggio di mostrare i semi del livore. Ho pensato che l'antidoto all'odio è proprio questo. Apeirogon ne è un pezzo, così come lo era il lavoro di Shirin Abu Akhla. Raccontare le storie, dare voce a chi non ne ha, guardare tutti i lati, confondersi e poi guardare l'insieme. Confondersi ancora e per questo continuare a cercare. Francesca Mannocchi Passiamo ora alla seconda parte della serata. E prima di annunciarvela, permettetemi di ringraziare il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che da sempre è la casa del premio Terzani, ma anche le istituzioni e gli sponsor che ci sostengono, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, il Comune di Udine, la Fondazione Friuli, Amga Energia e Servizi, Copa Alleanza 3.0, Civibank, Ilcam, Farmacia Antonio Colutta, Confartigianato Udine e Pronto Auto. È un grazie immenso, riconoscente a tutti i collaboratori, i tecnici, i volontari, straordinari appassionati, i professionisti che ci assistono ai vari livelli e che rendono tutto questo possibile. E anche per loro vi chiedo un applauso. Cantano di uomini e donne appartenenti a spazi, culture e tempi differenti, alla ricerca di varchi e passaggi tra Oriente e Occidente. Danno grande importanza all'incontro tra mondi sonori differenti e ai testi colti e declinati in lingue diverse. In 15 anni di attività hanno lavorato con moltissimi musicisti di grandissimo spessore artistico e sono stati ospiti dei più importanti palcoscenici italiani e internazionali. Siamo onorati e felici di averli qui a portare in musica le stesse parole di pace di Ape Erogon e ringraziamo per la collaborazione euritmica che tornerà quest'anno in città con Udine e Jazz. Al premio Terzani 2022, il Radio Dervish. Indichiamo questo concerto a Sherino Boagli, una persona per bene, una resistenza palestinese. Disegnò la libertà come un'isola, alla luna sussurro versi d'oscurità e la tristezza dal suo viso tocca al cuore lo incendiò per reggiare per reggiare per reggiare nel buio in marzo. Perso dentro un atomo, senza identità, Viva solo una timore, è un soli senza aiutare. Mani arduo una l'amore, mani tolubo una salla, Non c'è una domanda, senza raccoglarti. Poi, prendere l'amore, Arrivare le candi, Poi c'è il sbaglio, nel buio la tristezza dal suo avviso tocco il cuore dell'incendio vorrei essere candela nel buio la tristezza dal suo avviso grazie 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 grazie